Parliamo di calcio regionale, buonasera a tutti e lo facciamo con Massimo Mazzetti che è il presidente dell'AS Castello. Buonasera, benvenuto. Perché abbiamo invitato l'AS Castello con un mega coppone a lato del tavolo? Perché domenica sera abbiamo vinto dopo un bel campionato, abbiamo fatto un bellissimo campionato e abbiamo vinto il nostro titolo. Un titolo inaspettato in seconda regionale. Un titolo in seconda regionale inaspettato perché nessuno ci credeva, infatti eravamo sempre tutto il campionato in seconda posizione e dove il vedeggio ha dominato tutta la stagione però all'ultimo minuto siamo riusciti a fare questo sorpasso mai che nessuno si aspettava. Sembra proprio una scena da film, è stata una beffa. Una scena da film, una beffa per chi perde e una grande situazione per chi vince. Come avete festeggiato? Non era previsto una cena normale a fine stagione perché era un'ottima stagione, la nostra decima stagione in seconda lega e quindi era giusto dare un premio a chi si è impegnato per tutta questa stagione. Alla fine ci siamo trovati a dover festeggiare un campionato vinto all'ultimo minuto. E a bere dentro la coppa come si fa come i campioni. Come si fa di solito. Infatti vediamo la fotografia che ci ha messo alla regia, grazie. Chissà che gioia. Ma è stata una gioia, poi vincere l'ultima partita comunque un derby, il derby col balerne è sempre sentito e quindi è sempre una gioia immensa. Hai dato dieci anni in seconda regionale ma sono stati comunque magari gli ultimi anni sintomo di una crescita. Diciamo la società che è nata nel 1967, costruita da una società di paese composta da persone del comune che poco poco hanno costruito qualcosa grazie a tutti i dirigenti, i giocatori che sono passati si è arrivati a questo risultato che premia tutti, dal primo all'ultimo, da quello che riga il campo, da quello che taglia l'erba, da quello che si mette a disposizione per aprire la bivetta il sabato pomeriggio a tutti. È un premio per tutti quelli che hanno lavorato per questa causa. Tre anni che lei è presidente, prima il quinto posto, poi il secondo e adesso il primo. E porta fortuna lei allora. Ma non lo so, porta fortuna. Vedremo il futuro, cosa ci aspetterà. Ha detto futuro, allora ovviamente io la domandina gliela faccio, visto che la promozione prevede che l'anno prossimo si possa giocare in seconda interregionale. La seconda interregionale è una decisione che la società prenderà a giorni, perché è una decisione importante, perché si va a fare un campionato a parte un'altra squadra ticinese, con tutte le altre squadre della Svizzera interna, della zona di Lucerna. Quindi è comunque una decisione che si dovrà prendere con rifletterle bene. Ed è vero che chi vince un campionato è il premio giusto se è una promozione, sicuramente. Lei ha detto appunto ci saranno tante trasferte, quindi ci sarà un fattore economico che peserà? Un fattore economico, un fattore di struttura, un fattore di persone che si mettono a disposizione per effettuare un campionato molto più impegnativo di quest'anno. A lei piacerebbe? Ma senz'altro, questa è l'ambizione di tutti di farlo. Avete anche riconfermato l'allenatore, il signor Meroni, a cui facciamo i complimenti, tra l'altro. Il riconfermato dopo l'anno prossimo, il quarto anno, che abbiamo questo allenatore è che lavora molto bene con i giovani, lavora molto bene con la squadra, è un mix di giovani e persone con un po' di esperienza. Che cosa può succedere se il Castello non accetta la promozione? Se il Castello rinuncia alla promozione, si chiederà la seconda, rispettivamente la terza e poi le federazioni decideranno chi è che potrà andare in seconda in tente regionale. Hai dato una squadra mista tra giovani e giocatori di esperienze. Io so che però voi avete un movimento giovanile importante. Abbiamo un importante movimento giovanile che è composto, noi collaboriamo con il Coldrerio, abbiamo un raggruppamento Castello Coldrerio composto di 150 allievi dalla scuola calcio, dai bambini che iniziano a dare i primi calci al pallone, agli allievi A che è l'anticamera delle prime squadre. Quest'anno un orgoglio della società che gli allievi A hanno appena vinto la Coppa Ticino della categoria... Ha vincente tutto? Ma è l'anno buono! Insomma, complimenti anche all'altra squadra di allievi A a questo punto. A questo punto sì. Allievi A, comunque giovani che poi dopo appunto si inseriscono in prima squadra. Un'anticamera dell'ultima categoria e dopo il prossimo passo sulle prime squadre dipende un po' da qualità dei giocatori che può andare in secondo, in terza o dove si vuole. A proposito di allievi e di giovani, io so che il 14 e il 15 ci sarà una manifestazione importante. Un torneo molto importante per il nostro raggruppamento perché è il 21esimo edizione del Memorial Soldini creato da questo raggruppamento in seguito al decesso di un allievo del Coldrierio e ogni anno si ripete un torneo internazionale composto quest'anno di 10 squadre proveniente dall'Italia, Zizia Interna e quest'anno abbiamo anche una squadra russa. Torniamo al presente, presentissimo perché questa sera tra l'altro voi vi giocate la Supercoppa Ticino ancora contro il Vedeggio. Questa sera è una bella, l'ultima partita della stagione dove incontriremo i vincitori della Coppa Ticino, in questo caso il Vedeggio, in una partita a Giubiasco, questa sera 8 e mezzo quindi... O rivincita o conferma. O rivincita o conferma e vedremo il risultato come sarà. Immagino che il Presidente dopo la trasmissione vada a quel di Giubiasco. Ebbè questo è normale che... Per tifare fino all'ultimo. Per essere presente fino all'ultimo in questa stagione particolare. Allora ne abbiamo parlato spesso e volentieri anche a Fuorigioco News, a Fuorigioco, il tema del Bellinzona che ritorna in seconda regionale ha fatto discutere non poco, come l'avete presa voi? Ma noi, diciamo, noi Bellinzona l'abbiamo presa anche in modo positivamente perché secondo noi con i problemi che abbiamo nel calcio ticinese attuale, avere il Bellinzona, che è comunque una piazza molto importante nel cantone e ha diritto ad avere una squadra, la seconda lega o il calcio regionale sarà più... i mass media, i giornalisti, avranno più presenza su questa... Ci vedrete di più, insomma. Si spera. Penso di sì, immagino di sì. Però diciamo che voi non siete stati toccati dalla polemica. Noi non siamo stati toccati, l'unica cosa che noi abbiamo messo un po' che è la presenza del Bellinzona che non venga a penalizzare con delle retrocessioni o con delle eliminazioni di squadre che sono già in queste categorie da diversi anni. Il calcio ticinese è in difficoltà comunque? Il calcio ticinese non sta passando un buon periodo parlando della cenergia fino a categorie più basse perché effettivamente quest'anno, come gli anni scorsi, si è dimostrato che ha delle difficoltà d'immagine verso l'esterno. Si sente anche nelle categorie regionali queste difficoltà? Ma si sente perché comunque le categorie regionali ci sono giocatori che hanno sicuramente delle ambizioni di giocare in categoria superiore e non avendo uno sbocco o non avere una garanzia di una squadra di livello superiore qualche cosa si sente. Allora io vi faccio in bocca al lupo per la partita di questa sera, poi buone vacanze visto che è finita la stagione anche per voi e poi vi seguiremo a dipendenza se sceglierete di salire in seconda interregionale oppure se resterete in seconda regionale. Intanto grazie di essere stato con noi e di aver portato la coppa per me che così dopo la studio per bene. Allora io sento una presenza, ecco lo sapevo, io ringrazio anche da parte mia e volevo, raggiungimi qua, Serena, vieni, 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 è un triste momento. Io volevo ringraziare, la settimana prossima Serena sarà impegnata con i mondiali. Sì, è ora anche per noi di portare i mondiali. L'ultima puntata di Nonda con voi. Io volevo ringraziarti naturalmente anche a nome di Sara Bellini per tutto, per la tua bravura, la tua simpatia, la tua disponibilità. Davvero grazie nel corso di queste tante puntate. Ma tu a proposito di tante puntate hai qualche numero? Allora, questa era la trentatresima puntata, come gli anni del caro signore, per supporto la croce anche io. No, è stata veramente una bellissima esperienza, grazie a voi per lo spazio che mi avete dedicato. Io ho conosciuto degli sport che neanche sapevo esistessero e penso di averli fatti conoscere anche a voi. Assolutamente sì, abbiamo imparato tantissimo e poi il pregio che li hai presentati in maniera diversa, in maniera più personale. Che cosa ti lascerà questa esperienza? Ma a parte tantissime persone che ho conosciuto e i legami che ho stretto, beh, devo dire che sì, mi mancherà un po' questo chiacchiericcio, visto che amo parlare se non si era notato in tutte queste tante puntate, mi mancherà questo chiacchiericcio, ma sono veramente soddisfatta di come sono andate queste puntate e anche grazie a voi perché mi avete sempre sostenuto e mi avete messo a mio agio. Grazie a te. Senti, ma proprio telegraficamente, la settimana prossima cosa è? Eh, da settimana prossima fuorigioco mondiali dalle 11 di sera fino a mezzanotte e mezza vi terremo compagnia per questo mesetto di partite notturne, non notturne, ci saranno così dal Brasile dove abbiamo inviato, dove invieremo Mauro Antonini e Luca Sciarini. Vedremo anche di ospitarli qua prima della partenza. Che non si sa se torneranno mai, noi saremo in studio con Patrick Della Valle e Stefano Sala, vi terremo compagnia per queste notti brasiliane. Va bene, va bene. Ascolta, Serena, aiutami a lanciare il prossimo argomento. Allora, come iniziare col piede giusto la carriera professionale? Ne parliamo tra pochissimo. Grazie. Grazie a te.